Sono Madesta Gilles Nuskite, una ciclista. Ho bisogno di buoni risultati, ma anche voglio essere bella donna. Per cui ho conosciuto Nuskite, un programma di cosmetologia per tornare il mio colpo più bello, più giovane, perché quando corro sono sempre al sole, ho bisogno di avere un recupero per avere un bel viso. Per cui questa cosa qua mi è tanto piaciuta, è anche molto comoda perché è sempre a viaggio, non ho tempo mai ad andare da cosmetologo. Ce l'ho sempre a mano, una piccola cosa con creme, con cose che ho bisogno, solo 5 minuti e già sono bella.